Per trovare un rimedio, signor amico, se ne hai, per esempio, avesse la chiave del bandito... No! No! Mi devi portare lì! Ciampo, lo stesso prima di partire! L'ho fatto tu! No! Ciampo! 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 Mi porta la chiave! Sì! Senza che io li avrebbero portato! Vuole portarmela lui! Per forza! Ogni costo! Io anzi non la volevo! No! 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 Capisco! No! Non capisco! Ah! Allora lei può essere più che sicura che ciampo! Allora non è il peccanissimo sospetto! Così chi lo sa? Ma che dice? E perché? Non le ho portato in quale voglia allora! Perché è pechetta di Dio e la mia perché il paese non toglie tutto... Che io sono gelore, vero? E con queste scuse infatti che io sono gelosa, lui ha fatto sempre il comodo suo! Ma glielo dimostruo io ora alla gente! E se sono gelosa, ha torto ragione! Lei dice che non c'è più difficoltà a vendere la chiave, vero? Apre il banco! Prima che ti abbia tempo di richiudere l'uscio di mezzo! Apre! 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 Devo fare che sia così stupido il cavaliere da entrare dalla donna con l'unica precauzione da aver chiusa chiave alla porta del banco! Ci metterà anche il paletto! E che altro di grado? No, me altro! Devo fare le dimensioni! Atterrare la porta! E questo mentre il cavaliere avrà tutto il tempo di richiudere l'uscio di mezzo! Apre! 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 Ciondor! Apre! verso la famiglia da cui lei santo Dio ha ricevuto tanti parole perciò le dico che mi riferisce nel mio sentimento più sacro mi riferisce io pubblico funzionario sono signor Dio e grazie tante ma dico all'amico ma come sono sireni e qua di chi? amando dalla signora e si riceve una deluzione dicevo quando mi dice aspetta io prima feci di tutto ma la signora dove? dove? dopo dire feci di tutto per verso le regole e poteva sentire l'obbligo di venire prima da me fai con la deluzione testò ma appunto per fargliela dedicare e allora mi dico che lei non conosce sua sorella prima di Dio mi dica ciò che l'avrebbe portata inutile caro Dio fare ancora con questa dimostranza e del resto il signor delegato ha ragione l'assente fui io fui io sì signori l'assente benedetta porca domanda ma se non lo fio io caro signor Dio signora assunta mia che io venero primo di Dio come una madre la viola mi fa piangere signor mi piangere signore perché se torchio io è per eccesso per eccesso l'amicizia perché la condizione nostra è questa porca mi scusi il termine il signor assunta qua nel nostro stesso paese nativo è la cosa più male che si possa immaginare ma scusi scusi potevo trovarmi faccia a faccia mettere io le mani addosso io al cavaliere fiorica io e allora mi ho fatto mi ho fatto per eccesso l'amicizia la più grossa della rischialità ecco di questo signor Dio questo dovrebbe rinnoverarmi se non so ancora che Dio l'ho fatto lei che cosa ha fatto come è stato si può sapere è stato che non potendo no non volendo farlo io un simile servizio ho inventato un altro il mio colletto avvocato fuori schiere caronese e ho visto cosa fa ignorante testa di muro è stato tutte e due con il mio cognato e la donna ma fece il suo dovere mi pare fece proprio quello che doveva fare senta figlio mio non c'è quel che dici insomma il ritrovare un insieme ecco insieme e non insieme ma è una cosa vera non c'è non si può dire che ci sia e questo intanto è una gran cosa anche allo stato degli anni si può dimostrare che non c'è niente 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 assoluto ma allora perché c'è ma perché non c'ero io perché c'era quella testa di muro di calabrese ma il signor che amoglia mi sarà rilasciato il signor mi sarà rilasciato questa sera stessa lo prometto lo giuro se no non mi chiamerò più Alfio Spannù è facile ma intanto nel nome di Dino come fu ah ecco fu così lo gatto mediante la chiave data dalla signora mi è felice entrò nella sede del banco del cavaliere Fiorino e si lascose nel cucitato l'antico la sala quando le guardie bussarono la torta di là dell'annesso quartierino del ciampa il dimarco di aprile 9 della vece e cavaliere appena la donna scese ad aprire naturalmente che fece per entrare nella sala del banco ah ecco vedete dunque era là le stanze del ciampa aveva aperto lo sciò di mezzo eh si si signore e come aveva aperto se ciampa l'aveva giusta e mi aveva portato quale chiave ecco la prova la prova che è vero no 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 è una prova aspetti ma come non è prova signore la catena cento inglese hanno due due chiavi due chiavi bellissimo una in toscacciappa e l'altra in tasca di mio marito no signore lascerina risultata verbale il cavaliere fiorica dichiarato e arrivato da catania non potendo finirarsi non trovare il suo posto di strano ma adesso non è tutto in campionato non è stato povera natura avendo un pre di un pre di un'organizzazione e la corrispondenza arriverà a sicurare la sua assenza sono parole del verbale non so dice albisciò perdonare la moglie del ciampa dice in mezzo di capocci almeno le mani le mani le mani figuriamoci le mani le mani dove non era solo a me non le lievita non le lievita seguite allora allora la moglie la moglie del ciampa dice gli fece passare dice l'altra chiave di sotto l'uscio oh ma guarda di sotto l'uscio che bella mi azione come di fatti si è dimostrato perché la chiave di sotto l'uscio passa il cavaliere era in manica di camicia recentissima si e lei com'era com'era lei e lei lo era è scoprita tanto risultato è verbale e allora le dico che neanche le gambe la moglie la moglie oh ma che cosa è insomma signora più che in camicia in sottana è in camicia come vanno le donne per casa le donne di passo 100 si intende in questa stagione con questo caldo che io prego di Dio sono tutti in un bagno di sudore più che in camicia stia tranquilla signora un po' scollata camicia bracciali fuori camicia da donna si sa ciao basta che non li abbiano trovati lui di tutti e due ma vernicia come puoi parlare così non ti riconosco più figlia mia vergogna davanti a un uomo ma che uomo ma cosa la tua ricordezze nascondiamo nascondiamo ciao ripariamo vestiamole queste vergogne vergogne a dire certe cose farle non è niente ma non camicia con il signor delegato ma allora perché li arrestarono se li preparano negativo e quando alla donna l'arrestarono per le contegge si il cavaliere che si immaginò consiglia mette le mani addosso i caltoni di una furia una furia di ferro e ci fosse stato io avrei combattito anche se mi schiaffeggiava mi sarei preso gli schiaffi delaccio per la testa di uno di calcone si invece si cortano a governo responsabile di giudice e l'impatto fa no 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 ma sarà rilasciato signor di giudice sarà rilasciato questa sera stessa lo promettono giù e se lo calto non si sta qui e non la comodo io già dico ma se non risulta niente 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 perquisito tutto anche la borsa di viaggio anche la giacca da governo ah è questa la collana che ha incaricato giampa di pomperati qua questa precisamente mi risponda l'ho trovata chi parlo alledito di sta collana la salacetta quella quella appunto ma se lo so lo disse anche a me è una pura sciocchezza signor una semplice sciocchezza tanto è questo che la moglie del giampa litigando come fa sempre con le donne del vicinato che ne danno la bagno e tutti i capelli che tiene le dita si mancò dice che uno di questi giorni per farle come parla di nidia sarebbe loro apparsa dice parate come una madonna al bacone con una gran collana di quelle appettarie a pezzo questo è tutto sai invece signora sai invece che cosa le trovarono nella forza di viaggio del signor cavaliere o gli pulicino la messa un piccolo piccolo prossimo un'amore con la rivelatura da voglio le pagine lo vanno bene figlia per te ah è anche una scatola di mano le bandite quelle che piacciono a te ma se l'ho sempre detto io che è trattata come una regina bestiazza ingrata ma sarete prudente il signor si dice come spero riesco a far ripasciare il cavaliere questa sera stessa sarete prudente che la signora non si faccesse trovare in casa certo certo si 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 ci porteremo a casa con noi almeno per qualche giorno bisognerà combattirlo al diavolo e non si faccia farei cose nell'altro ha ragione ha ragione ma Dio non so che cosa vorrei se fosse al suo posto ma gli passerà gli passerà sia sicuro che gli passerà dopo qualche giorno le furie svaporano e tutto torna tranquillo come fin ah prima di Dio che bella cosa signore la santa pace domestica questo è lui ci ha e non la voglia resta ma che cosa di bene per questo poverino forse bisogneranno riceverlo no 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 meglio riceverlo ma gli stessi hanno ragione qua tra me e lei non mi importa faccia pure quale che vuole un che vuole ma che tremori per tutte sono bene mi ritirco la mappa già mi pare vieni vieni coperti gianna mia lasciamoli sali me lo muovi tutto e tutto mi andate voi ho detto andate andate ci sono qua andate 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 mappiate paura ci sono qua e andate Grazie a tutti.